Tolto agosto dai coglioni e gli abusivi balneari. Ripiegati i teli mare e chiusi tutti gli ombrelloni. Sintonizzati su Ottolina e lascia stare altri canali. Torna all'incubo dei nafo e degli analfo liberali. Domenica 1 settembre alle 21 ci vediamo con Francesco Dall'Aglio, Stefano Orsi, Clara Statello e Giuliano Marrucci. Per il grande ritorno della bolla. Chi non ci sarà è un piagnerello, piagnerelli.